L'ora lettura della formula di riconoscimento. Rappresentanze attenti! Ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntali finanzieri, nome del Capo dello Stato, voi riconoscerete il colonnello Nicola Bia, quale comandante provinciale prindisi della Guardia di Finanza. Carissime fiamme gialle, sono consapevoli dei sacrifici che ogni giorno affrontate nelle diversificate attività. A ciascuno di voi esprimo il più sentito e incondizionato grazie per le costanti dimostrazioni di professionalità, senso dello Stato e rigore con cui state, tra l'altro, svolgendo indagini complesse e delicate. Le vostre qualità e quelle dei vostri familiari, che per voi e con voi condividono le difficoltà di un lavoro al servizio degli altri, rappresentano la vera ricchezza della Guardia di Finanza. Grazie dunque per tutto ciò che avete fatto e per quanto continuerete a fare al servizio delle comunità di questa provincia, con una sempre maggiore e convinta lotta a tutte quelle manifestazioni criminali che mortificano questa meravigliosa e virtuosa terra. Infine al colonnello Bia, che mi subentra e mi incarico, dai quali mi legano comuni ricordi, essendo mio collega di corso superiore, porgo di cuore un caloroso augurio di buon lavoro e buona fortuna. Signor Comandante regionale, ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, sono profondamente onorato di essere stato designato come Comandante Provinciale di Brindisi, in carico di cui avverto pienamente la responsabilità, e sono altresì orgoglioso di assumere oggi un così importante ruolo, il primo in questa veste, nella mia regione nativa, la nostra splendida Puglia. La mia azione di comando sarà ispirata dall'obiettivo di determinare, nell'ambito di ogni singolo reparto, un sereno clima organizzativo. In sintesi, signor Generale, profonderò tutte le mie energie e capacità al fine di cercare di rendere il nostro quotidiano servizio aderente alle crescenti esigenze di sicurezza e giustizia della collettività, confermando quel modello di polizia, dalle più volte rilanciato, a forte vocazione sociale che pone il cittadino al centro del sistema. Con questi sentimenti e propositi che hanno da sempre connotato il mio percorso professionale e confidando nella vostra leale e generosa collaborazione, nel vostro sostegno, e ne sono certo anche nel vostro afferto, vi auguro buon lavoro. Viva il Comando Provinciale di Brindisi, viva la Guardia di Finanza, viva l'Italia.